Ciao sono Ambra e benvenuti a tutti in questo nuovo video dove proviamo insieme il nuovo fondotinta Neve Cosmetics Allora, come molti di voi sapranno, è già uscito da qualche giorno il nuovo fondotinta firmato a Neve Cosmetics Il primissimo fondotinta in stick proposto dalla casa cosmetica Il nuovo fondotinta proposto da Neve Cosmetics prende il nome di Star System Foundation Questo perché? Perché è volutamente ispirato ai famosi pan stick, quindi fondotinta in stick Ricordati anche volgarmente come Ceroni, che venivano utilizzati nel cinema hollywoodiano per interagire al meglio con le luci E regalare al viso degli attori questo aspetto di pelle super levigata, liscissima e perfetta Ovviamente aiutato dalle luci cinematografiche e dalla mediazione della pellicola La sfida di Neve Cosmetics quindi è stata molto ambiziosa Andare a riprodurre quel tipo di fondotinta levigante, perfezionante, ma che non fosse a uso cinematografico Bensì che avesse un effetto davvero Photoshop, ma soprattutto dal viso Quindi un fondotinta ovviamente in linea con il concept aziendale Quindi vegan, paraben free, silicon free, quindi senza parabeni Un prodotto vegano e naturale come vuole l'inci di tutti i prodotti in casa neve Ma che avesse le performance di un vero e proprio fondotinta effetto siliconico Quindi ultra levigante, ultra perfezionante e al contempo anche molto molto leggero sul viso Il fondotinta è già in vendita sul sito C'era un'interessante offerta lancio che prevedeva come sempre le spese di spedizione a un euro Un po' di sconto anche sul fondotinta che ha il prezzo canonico di 14,90€ per 4ml di prodotto Questa è la prima eccezione che voglio fare a questo prodotto Prima vi lascio a tutti gli swatches delle nuove colorazioni Eccoci qua con gli swatches, perdonatemi ragazze, non sono più riuscita a trovare una colorazione Comunque partiamo con questa che è la Fair Neutral Quindi la colorazione più chiara in gamma, perfettamente bilanciata, quindi neutrale Dopodiché abbiamo la Light Rose da sottotono fortemente rosato E la Light Warm, sottotono decisamente giallastro Questa è la Medium Neutral Medium Warm, sottotono tendente al beige Tan Warm, colorazione calda sottotono beige Tan Neutral Questa più scura è la Dark Warm, perfetta anche per il nostro contouring Queste sono tutte le colorazioni Come vedete ne ho persa una Io ho i folletti in casa Non ho altra spiegazione perché era qua Fino a 30 secondi fa Allora abbiamo detto 4 ml di prodotto 4 ml per 14,90 euro Questa è la lunghezza complessiva dello stick Stick che è in tonalità Tan Warm E io ho usato un po' di volte effettivamente in questi giorni Ma stiamo parlando di 5 applicazioni al massimo Quindi devo dire che lo stick è piccolino A questa eccezione Neve Cosmetics risponde che ha dovuto salvare spazio Quindi toglierlo allo stick, alla quantità di prodotto Per mettere questa spugnetta applicatrice oppure comoda per fare dei ritocchi nel corso della giornata Che sinceramente non apprezzo Non sto pressoché mai utilizzando Per una questione mia anche legata al discorso igiene Difficoltà di pulizia della stessa eccetera Poi affermando che quella che viene definita come scarsità di prodotto Quindi c'è poco prodotto È determinato dal fatto che lo stick che va a comporre il fondotinta È tutto pigmento Quindi la texture non è allungata con le schifezze Quindi prodotti di origine chimica Che stiamo abituati a pensare nei fondotinta In stick di questo tipo Siliconi, petrolati eccetera Quindi è tutto pigmento puro Ne serve meno Ha più coprenza Dura in più nel tempo Ecco su questo aspetto io mi sento di aspettare per l'appunto Scusate il gioco di parole E quindi vedremo insieme poi con l'uso continuativo Quanto andrà avanti questo prodotto E se la spesa sarà ammortizzabile o meno in un tempo record Allora direi di partire con l'applicazione E scelgo due colorazioni La light warm e la medium warm Le vado proprio a mixare sul mio viso Facendo delle tracce In questo modo Non mi occupo del contouring invece che andremo a fare dopo Procedo poi anche con la versione più chiara La light warm Dopodiché andremo a sfumarle insieme con il pennello In questi giorni ho usato molteplici pennellini Oggi uso questo a zalea Indicato per la stesura del fondotinta A tal proposito vi consiglio di stendere questo fondotinta Con l'ausilio di un pennello in setole sintetiche Quindi assolutamente sconsigliate le setole naturali Perché non permettono al prodotto di essere lavorato bene Non mi sono invece trovata bene con l'ausilio di una beauty blender Credo che serva proprio un pennello per garantire La massima sfumabilità al prodotto Quindi vi consiglio un pennello in setole sintetiche Possibilmente che le setole siano molto compatte Per avere un'alta coprenza Vi ricordo infatti che a mio avviso Questo è uno dei fondotinta più modulabili sul mercato Possiamo avere una coprenza da leggera Andando semplicemente a mettere meno prodotto A sfumarlo più accuratamente Magari con un pennello a setole meno fitte Oppure possiamo avere come in questo caso Una coprenza davvero alta Quindi un eye coverage in senso stretto Dove abbiamo questo incarnato quasi effetto photoshop Guardate la differenza con l'occhiaia che ho lasciato scoperto La coprenza diventa molto molto alta Per macchioline cutanee come in questo caso Necessita l'ausilio invece di un correttore Comunque perché la coprenza rimanendo anche molto naturale La texture del prodotto una volta stemperato sul viso È sì altissima ma rimanendo comunque naturale per l'appunto Quindi se abbiamo grosse imperfezioni andrà a camuffarle Ma non a coprirle totalmente Fattore che io sinceramente apprezzo moltissimo Direi che anche con l'ausilio di un pennello piccolo come questo Si è già sfumato alla perfezione Ora voglio divertirmi andando a fare un pochino di zone di luce e di ombra Sempre con l'ausilio di questi prodotti Quindi prendo la colorazione Fair Neutral Quindi quella più chiara in gamma E vado a creare proprio Dei triangoli di luce sotto l'occhio e a ridosso dell'alto zigomo Devo dire che anche il contatto di questo stick sulla pelle è estremamente scorrevole Quindi per nulla sticky, appiccicoso, duro da indossare Questo facilita un sacco l'applicazione Oltre ora io andrò a sfumare e vedremo che l'applicazione non creerà spessore aggiunto La cosa che mi ha lasciato totalmente soddisfatta di questo prodotto È che nonostante questi giorni mi sia divertita creare look differenti E gradi di copertura differenti Non abbia mai avvertito né visivamente né a livello sensoriale La sensazione spiacevole di cakey face di viso soffocato dal make up Quindi formula davvero ultra leggera Questi giorni ho provato a testarlo anche usato solamente come correttore sotto la zona degli occhi Devo dire che per quanto riguarda la mia zona che è abbastanza problematica Andava a creare qualche pieghetta A causa della scarsa idratazione che aveva la mia pelle in questi giorni Premessa importante che non vi ho fatto invece a inizio dell'applicazione È che io non avevo indossato nessun tipo di primer sotto la mia pelle Ha un effetto talmente tanto levigante Si fonde così tanto bene Che non necessito dell'uso di un primer di nessun tipo Però necessito dell'uso di una crema idratante Perché abbiamo alcune aree dove Ad esempio i miei lati del naso Che sono parecchio secchi Anche a causa della diminuzione delle temperature Del forte vento che abbiamo da una settimana Ho delle aree che sono parecchio sensibilizzate E una mancanza di corretta idratazione Dopo qualche ora che indosso questo fondotinta Viene messa il risalto dallo stesso Che va quasi a rapprendersi creando delle pellicine Se avete aree del volto parecchio segnate o scripolate Sicuramente verranno enfatizzate da questo prodotto Con lo stick dark warm invece Che è questa colorazione biscotto Devo dire che la gamma cromatica non è ampissima Sono sempre indicate per ragazze caucasiche Più o meno abbronzate Ma non è una gamma completamente inclusiva Comunque vado a tracciare delle linee A giocare con gli scuri E se dovessi finire questi prodotti Sicuramente questa colorazione scura Sarebbe quella che andrei a ricomprare per prima Perché in questi giorni mi ha regalato Un contouring intanto facilissimo da sfumare Che durava abbastanza E molto naturale Sfumo anche questo con lo stesso pennello di prima Quindi ragazze Se dovete comprare un prodotto Per il vostro contouring in crema Io mi sentirei proprio di consigliarvi Questo fondotinta È super modulabile Ma super naturale sempre E guardate come contorna da perfezione il viso Senza fare stacchi Guardate come ha scolpito già il viso In modo naturale Forse la fotocamera Enfatizza ancora di più le ombre Rispetto all'effetto che mi regala dal vivo Che è quello di viso Perfettamente scolpito E abbronzato anche Et voilà Proprio in pochi minuti Ho ricreato questo effetto bronzy look Che a me personalmente piace molto Rispondo alla primissima domanda Per quanto riguarda il parere Proprio più sincero su questo fondotinta Se ora dovessero rubarmelo Andrei a ricomprarlo? Sì Lo andrei volentieri a ricomprare Comprerei due tonalità Quindi penso la medium warm Per tutto il viso Perché mi trovo benissimo Ora vi vado a dire Quelli che sono gli aspetti positivi Che ho notato Ma soprattutto Lo stick più scuro Quindi la tan warm Per il contouring Perché mi piace molto Va a racchiudere tutte le richieste Che ho io in fatto di contouring in crema Ma veniamo alle performance Vere e proprie Di questo fondotinta Io posso dirvi che Sono stata sinceramente stupita Non credevo che vincesse la sfida Ecco Riuscire a formulare Interamente con l'ausilio Di prodotti di origine naturale Un fondotinta Dalle caratteristiche Leviganti Inimizzanti Per quanto riguarda i pori E che avesse la scorrevolezza E la facilità di stesura Quindi di applicazione Di questo prodotto Io pensavo fosse impossibile Per un brand naturale E devo ammettere Che ci sono riusciti Quindi veramente Sfida Vintissima Mi ha colpito molto Questo fondo Mi ha colpito perché Sul viso non si sente Quindi io lo sento Del tutto impercettibile Dura 5-6 ore Tranquillamente Questi giorni purtroppo Ho potuto testarlo anche In situazioni molto Molto lunghe E un po' disordinate Diciamo così E devo dire che Mi ha stupita ulteriormente Per quali range Di pelle è consigliato Direi un po' per tutte Anche se Ho notato Che sulle pelle Molto screpolate O comunque Pelli secche Tende a rapprendersi A ragrumarsi A macchie In modo comunque Molto discreto E impercettibile Però Qualora vi avviciniate Moltissimo Alla faccia Della persona Che appunto Ha delle aree Non molto idratate Si possono notare Dei piccoli puntini Sto parlando Di bazzeccole Sono dettagli Che io voglio dirvi Per far sì che La mia recensione Sia il più ampia possibile In tutti gli aspetti Positivi Ma anche in quelli negativi Che a volte Cerco anche di tirare fuori A forza Ecco Questi giorni Ho notato Che alle aree del naso Tentava quasi a riprendersi Ma A una distanza Di 50 cm Già non si notava più Mentre si notava il fatto Che io avesse una pelle Completamente Radiosa Pulita Effetto nude E con le piccole cicatrici Che ad esempio Ho in fronte E i poretti dilatati Che ho nell'area Del basso zigomo Quasi appianati E otticamente Quasi invisibili La durata Come vi dicevo È super buona Su di me Non diventa oleoso Va via Dopo diverse ore 5-6 Facciamo anche 7 ore Dipende un po' anche Dalla temperatura Dall'ambiente Dalle zone d'uso Va via in modo Molto omogeneo Quasi come se Sbiadisse Pian piano Quindi non cola A me non fa Effetto maschera Facilissimo da struccare Come non avere nulla Sul volto Non lascia Pressoché Transfer Cosa stranissima Perché tutti i fondotinta In stick Anche i migliori Ad esempio Quello di Make Up For Ever Che è il primo Che mi viene in mente Quando penso A un buon fondotinta In stick Su base siliconica Ovviamente In quel caso A me lasciava Un po' di transfer Magari sulle giacche Eccetera Proprio perché La texture Generalmente È più pastosa Questo no Tra l'altro Un prodotto Come vedrete in demo Super stratificabile Che non crea mai spessore Modulabile Si ottiene Una coprenza Da leggerissima Se mettiamo pochissimo prodotto Però attenzione Possiamo avere davvero Un effetto Un effetto super uniforme E questo denota Il fatto che abbia Un indice di sfumabilità Altissimo E perfetto E arriva poi A una coprenza Super enfatizzata Aggiungendo strati Di prodotto Quindi modulandolo Come meglio preferite Questo me lo fa consigliare Anche una pelle Tendenzialmente acneica E nulla ragazze Questi erano tutti I miei pareri Su questo fondotinta Che devo dire Mi ha stupito Io vi mando Un grosso bacio Spero di esservi stata utile Se così fosse Sempre gradito Un vostro piccolo like Noi ci vediamo Alla prossima Ricordate di starmi bene Anzi non scordate Di starmi bene Ciao